Ci sono tre parole che descrivono oggi abitare in. Una è l'innovazione, noi abbiamo trasformato il settore nel quale siamo. La sostenibilità, noi facciamo un lavoro che cambia le nostre città, facciamo rigenerazione urbana. Sostenibilità che per noi non è solo sostenibilità ambientale, ma è anche sostenibilità sociale per vivere meglio nelle nostre città e sostenibilità economiche. E da ultimo una parola che non è spesso utilizzata dalle aziende ed è la bellezza. Qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo e per noi è veramente così. Abitare INAD ha sempre puntato sulla digitalizzazione per trasformare un settore, quello della realizzazione delle case, che è sempre stato indietro rispetto al fenomeno di trasformazione digitale. Per noi la digitalizzazione ha voluto dire cambiare in modo radicale il mondo in cui operiamo. Vodafone Business è il nostro partner di connettività, gestisce per noi anche tutta la sicurezza informatica. Connettività e sicurezza informatica sono due aspetti fondamentali del nostro business perché abbiamo portato online tutti i nostri servizi. Oggi si può comprare casa online, l'abitare in, il servizio clienti online, quindi tutte le richieste dei clienti. Gestiamo dati molto sensibili e la casa, si sa, è forse il porto più sicuro nel quale ogni famiglia vuole stare. Con Vodafone Business abbiamo raggiunto tre obiettivi fondamentali. Una gestione sicura grazie a un advanced cyber security delle nostre piattaforme, una migrazione totalmente cloud per portare sempre più vicino al web i nostri servizi e una connettività sempre più veloce da noi ai nostri clienti. Il futuro per abitare in è soprattutto opportunità. Ci sono ancora tanti mercati da innovare e da trasformare nel settore della casa. Abbiamo da poco lanciato una nuova iniziativa che si chiama Unisi che porterà la sharing economy nel mondo dell'abitare. Ci sono tre parole che vogliamo rappresentino l'abitare in del futuro. La prima è l'opportunità, l'opportunità di crescita, l'opportunità di innovare, l'opportunità di trasformare. La seconda è la passione. La passione sarà sempre il nostro faro e la guida in tutto quello che facciamo. La terza è il talento. Siamo un'azienda che fa della competenza e del know-how il proprio punto di forza. Nel futuro di Abitare In c'è sicuramente la connettività che consentirà ad Abitare In di realizzare il proprio sogno di digitalizzare tutto il mondo della casa.